Una laurea con il massimo dei voti e un master in comunicazione, ma questi sono pezzi di carta, mi creda. Oggi è il suo giorno fortunato. Le darò la possibilità di fare uno stage gratuito presso la nostra azienda in modo da mettere più carne sulla griglia della sua conoscenza. Quindi, che ne pensa? E dei nostri? Penso che... Penso che...